Valorizzare il patrimonio nuragico sardo è l'obiettivo dell'Associazione La Sardegna verso l'UNESCO che a partire da oggi ha dato il via a un ciclo di incontri con il coinvolgimento di tutte le professionalità interessate al progetto. La valorizzazione della civiltà nuragica che noi stiamo cercando di ottenere attraverso il riconoscimento di un valore identitario importante qual è la nostra civiltà che possa essere considerato patrimonio mondiale dell'umanità attraverso la World Heritage List dell'UNESCO. nella convinzione che questa ricchezza straordinaria di cui noi disponiamo in Sardegna debba essere raccontata al mondo e debba diventare per la Sardegna uno straordinario volano di sviluppo economico. Noi non pensiamo che la nostra civiltà nuragica debba rimanere chiusa in casaforte, siamo convinti che debba essere raccontata a tutto il mondo per poter trascinare l'economia sarda. Quello di questa sera è stato il primo appuntamento di carattere divulgativo che ha visto come protagonisti il presidente dell'associazione Pier Paolo Vargiu ed il presidente del comitato scientifico Francesco Pigliaru. Presidente, quanto è importante valorizzare il nostro patrimonio nuragico sardo anche dal punto di vista economico? Ovviamente è importantissimo, abbiamo una risorsa straordinaria per definizione unica con una densità di frequenza nel territorio molto rara nel mondo e quindi è un po' assurdo che in questo momento solo il 10% dei turisti pensi di dover visitare un sito nuragico o perché non ne conosce l'esistenza o perché lo trovo poco interessante perché forse non ho ben capito di cosa si tratta. Quindi c'è un lavoro fantastico nel senso di enorme ma anche entusiasmante da fare per cambiare questo stato di cose. Il convegno che è stato fatto a novembre scorso dimostra che c'è interesse, che c'è molta ricerca ancora da fare, che bisogna ancora ben capire alcune caratteristiche di questa che chiamiamo civiltà nuragica ma di cui sappiamo nonostante il grande lavoro degli archeologi ancora poco. Ma insomma in genere questa è una cosa interessante perché quando si sa poco c'è anche un po' di mistero. Il mistero attrae interesse e noi dobbiamo certo pian piano risolvere il mistero ma anche far capire che il mistero in qualche misura esiste ed è molto interessante nel contesto del Mediterraneo.